La tredicesima, con un mese abbondante di anticipo, parliamo di quella intesa come calcistica del lungo romanzo del campionato che di puntate ne avrava in 38. Dopo la bruciante sconfitta di Reggio Emilia, condita da tutte le polemiche del caso per la pessima direzione arbitrale, si volta a pagina. Anzi, Pagliuca e i suoi ragazzi lo hanno già fatto da martedì. Il passato non conta, se non per quanto ti porta in dote come bagaglio di conoscenza. E allora sotto col Montevarchi, già perché proprio la squadra rosso-blu valdarnese, l'interlocutore di Colette e compagni, nella gara di domenica pomeriggio, ore 14.30, antico orario del tempo che fu, sul prato del Porta Elisa. Tra l'altro alla vigilia lo stesso Pagliuca ha fatto appello alla tifoseria rossonera di accorrere numerosa in modo massiccio a sostenere la squadra. Pagliuca, che in cuor suo ha già pensato di concedere ampia fiducia all'undici del Mappei Stadium e delle ultime partite. Nannini è sulla via del recupero, ma ripartirà dalla panchina. Potrebbe trovare una maglia da titolare, Nicolas Bensai, ennesima chance per il centrocampista ex Viterbese, finora deludente. Occhio al Montevarchi, ringalluzzito dal successo sul Teramo e in classifica ad un solo punto dalla Lucchese. Mandarlo a meno 4 sarebbe una buona operazione. Proviamo a snocciolare la probabile formazione della Lucchese col solito 4-3-1-2. Coletta in porta, Papini, Bacchini, Bellic e Corsinelli in difesa, Visconti, Bensai e Sciacca Sciacca e Clucerniera mediana, Belloni trequartista ad agire alle spalle, difedato e semprini. Il pallone racconta che Lucchese e Montevarchi tornano ad affrontarsi a distanza di 13 anni. L'ultima volta fu nel campionato di Serie D, 2008-2009, vinto poi dalla Lucchese, allenata da Favarin. Era il 16 novembre 2008 e i rossoneri si imposero 5-2 con doppietta di Belluomi. Sarà invece, venendo a questo campionato, la sesta gara casalinga per la squadra di Guido Pagliuca, che al Porta Elisa ha un ruolino di marcia fatto esaltante. Al di là dell'ultima sofferta vittoria sulla Viterbese di due settimane fa, solo in un'altra occasione Coletta e compagni sono usciti vittoriosi, quando hanno battuto 2-1 l'Olbi, ma dobbiamo ricordare anche le due sconfitte con Cesena e Vispesaro e il pareggio con il Teramo. Sette i punti conquistati in casa, tanti come in trasserta. Sarà forse l'ora di sfruttare meglio il fattore campo, quello che una volta era un autentico fortino deve tornare ad essere tale.